Ciao, oggi visitiamo Lucca, la città delle cinto chiese. È una delle città d'arte più belle ed amate della Toscana. Può essere visitata in una giornata, ma se volete apprezzarla al meglio, fermatevi per alcuni giorni. È un'antichissima città risalente al VII-VI secolo a.C., le cui origini fanno capo agli Etruschi. Romana nel II secolo a.C. prosperò nel VI secolo d.C. con la dominazione lombarda. La città si proclamò libero comune nel 1119. Lucca è nota per la cinta muraria rinascimentale, che circonda il centro storico, e per le strade acciottolati. Le ampie passeggiate alberate in cima a questi bastioni del XVI-XVII secolo sono molto frequenti. Attraversando le mura si entra nel cuore della città, di quella che comunemente viene chiamata la città dalle cento chiese. Per l'elevato numero di edifici religiosi presenti, bellissimi esempi artistici ed architettonici, che in un solo giorno però è difficile visitare. Per l'elevato numero di edifici religiosi presenti, bellissimi a.C. Per l'elevato numero di edifici religiosi presenti, bellissimi a.C.